Salve, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere adesso indosso la mia Tiara. Ci so che come sono vestita non sto benissimo, fa freddissimo da me ragazzi quindi ho questo schifo di vestare lì addosso. Volevo essere un po' più bella ma purtroppo fa davvero freddo perché ha piovuto e negli altri video magari sarò pescita, meglio. Comunque in onore di Chiamella Regata la indosserò in alcuni video che farò perché ci tengo e poi è bellissima, guarda quanto è bella. Magari in un video adesso appunto non sono riuscita perché purtroppo ho piovuto e ho dirotto quindi ho poca roba, ho solo la sedia che si sta asciugando. Quindi magari poi in un video mi metterò magari un vestito adeguato o qualcosa di carino e vi truccherò, ci riuscirò. Adesso permettetemi di stare così ma ho la coperta, sono freddo, poi se intravedete qualcosa poi qua è la coperta. Fa veramente freddo, purtroppo coperte bianche e belle non ne ho, non una nera, coperte un po' strane. Allora, questo video è particolare, l'avrà fatto anche il mio ragazzo e quindi io seguo le sue orme e visto che ultimamente nel mio canale escono solo video spacchettamenti, mi è arrivato il pacco perché io ormai ho i video pre-registrati fino a metà maggio, anche oltre, devo alternare un po'. Quindi ho detto facciamo questo video qua. Cercherò di essere breve per quanto me lo conceda il video. Allora ho messo gli occhiali perché sono totalmente orba e stavolta leggerò da Whatsapp però sul computer, così non divento scema perché non ci ho mai pensato ma potevo farlo. Allora queste cose sono tutte, premettiamo una cosa, in una live e anche in un video ho detto che io e il mio ragazzo abbiamo programmato delle serate, più o meno da quando abbiamo iniziato a non vederci più per la quarantena. Abbiamo iniziato a fare delle serate, dove guardavamo dei film insieme, ovvero mettevamo lo stesso film, da internet, Netflix, Sky, tutto ciò che avevamo in nostro possesso, e poi lo mettevamo insieme, proprio in sincronia perfetta, e lo guardavamo al telefono insieme, soprattutto i video horror, soprattutto i film horror. Partiamo da quello che abbiamo visto, ve li dico in elenco per non diventare scema. Allora, non sono in elenco di come l'abbiamo visto ovviamente, ma da quello che circondavamo. Allora, Nino Kuni, potete vedere anche tutti questi film che realmente abbiamo visto sulle nostre stories di Instagram. Nino Kuni, Nino Kuni è un anime, che è veramente fantastico e legato al destino, ve lo consiglio. Ah, una premessa, dopo che finirò di dire tutto l'elenco di sto popò di film che abbiamo visto, ditemi quale avete visto, quale vuole essere una recensione, ovviamente non li posso recensire tutti perché diventerò pazza, ma di quali questi vuole essere la recensione, magari mi scrivete due o tre titoli, vediamo quelli più gettonati, magari farò la recensione. Di alcuni li ho già fatti, quindi magari cercate di non mettere quelli, se ve lo scriverò. Allora, Nino Kuni, che è un anime, poi vi dico giusto le categorie perché sennò stiamo qui fino a giugno. Oggi è, per chi vuole saperlo, il 28 aprile. Allora, Nino Kuni, che è un anime. Poi Tau, che è un horror, ma non è un trattore più un thriller. Però è molto bello, parla appunto di un robot che... C'è, per esempio, un pazzo che rapisce una ragazza per fare degli esperimenti. E tutto è condotto da un robot con un'intelligenza artificiale che si chiama Tau. Justice League, penso che lo conosciate. Seria Harry Potter. Non c'è niente da dire, sapete che io sono un amante della serie Harry Potter, quando l'hanno trasmessa l'abbiamo vista tutta. Poi, Capitano America e Capitano America Civil War abbiamo visto. Forse uno l'ha notato in tv, l'altro no, ma abbiamo fatto la serata Marvel. Quindi ci saranno tanti tv nella Marvel, magari. Perché non piacciono i tv della Marvel. Mi dispiace tanto, mi piacciono. Poi abbiamo visto la saga di Twilight, che attualmente è ancora in corso, perché mancano gli ultimi due capitoli, però comunque a finiremo di vedere. La saga di Annabelle, quindi tutti gli Annabelle. I tutti i conjuring, tranne il secondo che ci manca, perché siamo un po' ristiti a guardarlo. E la Yorona, che fa parte sempre di quella saga là. Ci manca The Noon e The Conjuring 2, perché purtroppo non vogliamo vedere... Non siamo molto propensi a guardare The Noon, perché ci fa un po' paura. Ci stiamo riflettendo. Comunque, più o meno la saga di Annabelle, The Conjuring, eccetera, eccetera. L'abbiamo quasi tutta terminata. Poi abbiamo iniziato la saga di Terminator, perché io sono fissatissima con quella saga. Allora, visto che abbiamo visto l'ultimo, siamo partiti a ritroso e ce la siamo guardata. Adesso dobbiamo vederci anche forse la serie, perché praticamente si collega con Terminator 2. Poi, vediamo un po'. Animani Fantastici dove trovarli, abbiamo visto tutti e due, sia il primo che il secondo. Poi Venom, perché ce l'avevo io su Sky, allora abbiamo deciso di vederlo. Su una TV, che è collegato a Sky. Venom è bellissimo, ve lo consiglio. Poi, Yukai, La Forza dei Suicidi, che è un film horror, però ci sta, ve lo consiglio molto, è carino. Che c'è su Netflix, se lo trovate. La saga di Jurassic Park, non l'abbiamo vista tutta ancora, perché diciamo che ci mancano dei pezzi. Perché tutta non c'era su Netflix, in TV l'ha nato un pezzo, è stato un po' un casino. Allora, poi, la saga di John Wick, 1, 2 e 3. Bellissimo, ve lo consiglio. La saga di Underworld. Sì, di Underworld ho detto. No, la saga di Undergame, scusatemi. Sorgendo malissimo, la saga di Underworld ho visto io. La saga di Undergame, che è andata in TV, la stanno anche ridando di poco da capo. Split, che ci ho fatto anche già la recensione forse di questo qua, ma è molto bello, perché poi c'è anche il secondo, che è Glass. Se riusciamoci a guardare, ci riguarderemo anche quello. Poi, Hotel Transylvania, era un momento in cui non sapevamo che cosa guardarci, c'era in TV, ce lo siamo guardati. La vedo è di Winchester, che appunto non abbiamo le serate horror, quindi ci saranno molti horror. Carino, è carino, non era male. L'uomo è bicentenario, è nato in TV, io mi commuovo con quel film, abbiamo dovuto vederlo. Poi, Esp 2, Fenomeni Paranormali, è molto, molto, è figo come film. Per il fatto non è che sia horror, è molto psicologico, per il figo. Malevolent, le voci del male, il punto ripeto è sempre horror. Final Final Destination 3D, l'ho scelto io perché non l'avevo visto tanto tempo, c'era su Netflix, ce l'ho visto, carino. E lì è un po' paturnioso. L'ultimo che abbiamo visto, che è stato appunto ieri sera, bellissimo, e di quello ci farò io una recensione spontaneamente, e cena con delitto, o di delitto, che è veramente fantastico. Cioè, vi posso assicurare che a livello di, come si può dire, di giallo, arriva quasi alla... Cioè, forse sono un pareggio con l'omicidio dell'Oriente Express. Io adoro quei genere di film, quindi magari ci farò sicuramente una recensione, perché io e mi ragazzo ci siamo rimasti proprio di merda ieri, come abbiamo visto. E ha tanto tempo che ci volevamo vedere, è veramente, veramente bello, ve lo consiglio. Questi sono i film che abbiamo visto, e alcuni ne mancano, perché purtroppo i titoli non ce li siamo scritti. I primi giorni della quarantena abbiamo visto tanti film, e non li abbiamo scritti tutti. Alcuni li abbiamo recuperati grazie alle storie, alcuni tramite su Netflix, quelli salvati, quindi molti non ci sono. Però, questi sono. Quelli che vi piacciono di più, scrivetemi magari, se volete una recensione particolare, a parte cena con il delitto che la farò, ripeto, a parte se volete qualche recensione su qualche saga, su qualche tipo di film, anche sugli anime, per adesso qua sono uno, abbiamo nominato, che è Nino Kuni, che bellissimo, ripeto, bellissimo, è molto simile a Your Name, Your Name sì. E poi, buono, i dati sono saghe, e niente, questo sono... è un modo carino per tenere la coppia viva, diciamo... Soprattutto non ci piacciono le serate horror. Adesso abbiamo di nuovo cambiato il piano, perché purtroppo alcune saghe sono finite. Volevamo iniziare la saga del Signore degli Alelli, però ci abbiamo perso le speranze, perché... Senza offesa per chi la guarda, è un po' noiosa. Come è stata tante volte, è un pochettino noiosa e dura troppo. Quindi abbiamo optato per guardarci qualcosa di più carino, quindi magari andiamo a scopare su internet quelli che non abbiamo mai visto, che sono usciti al cinema e non abbiamo potuto vederli. Quindi, niente, questo è tutto, io vi chiedo gentilmente poi appunto di lasciare un like e di condividere, se volete, il mio cane. Il mio cane sa quando faccio i video. Lilli, grazie per la chiusura del video. Niente, scrivete nei commenti cosa ne pensate appunto di questi telefilm, di queste serie, di queste... Il computer mi si è spento, andate sempre in poi. Niente, scrivete sotto nei commenti, se volete qualche commento, scrivete quello che volete, tranne cose cattive, mi raccomando. Lasciate un like di supporto e nella descrizione trovate tutto quello che volete su di me, social, anima bella, se volete, che avete bisogno di qualsiasi cosa, mi raccomando, non scrivetelo sotto nei commenti, ma scrivetelo nei social. Io ho due profili, ho Facebook, Instagram, TikTok, tutto quello che volete. Piuttosto lo scrivete nella community sotto i post, vi prego, ma non sotto qua, perché mi dà un pochettino fastidio. Ho pregato per lo spam. Io vi aiuto anche volentieri poi, nel... Però cercate di chiedermelo in una certa maniera. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.